Rimarrà in carcere Salvatore il figlio di Silvana Larocca, reo confesso di aver ucciso con diverse coltellate sua madre nel cortile della villetta in cui abitava la donna. Il femminicidio è avvenuto giovedì scorso quando l'ex insegnante è stata ritrovata senza vita all'interno della sua auto. Il jeep di Taranto ha convalidato il fermo per l'uomo ex ufficiale della marina militare che ha confessato di aver ucciso sua madre nel cortile della villetta in cui abitava a Marina di Leporano nel Tarantino. L'uomo ha confessato l'avversione resa ai carabinieri al PM aggiungendo anche altri particolari sul movente. Dalle indagini emersa l'esistenza di rapporti conflittuali tra la 73enne originaria di Saracena in provincia di Cosenza e il figlio primogenito determinati in particolare dalla sua precaria situazione economica. Aveva anche acceso un mutuo per acquistare un'abitazione a pulsano ma non riusciva più a pagare le rate e aveva accumulato un debito importante. Il 46enne ha parlato del rifiuto della madre di ospitarlo a casa e della gestione della villetta divisa per successione tra la vittima e i due figli. L'altro fratello vive attualmente in Francia ma ha fornito anche dichiarazioni contrastanti alcune giudicate inverosimili come quella di aver ammazzato la mamma perché lo costringeva influenzata da altre persone a mangiare carne umana ossia i resti del corpo di suo padre Cataldo ex operaio specializzato dell'ILVA morto nel 2002 in un incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico. Il 46enne ossessionato dall'idea che intorno ci fossero i vampiri ha affermato di aver prima colpito la madre dietro la nuca e successivamente non essendo riuscito ad ucciderla subito di averle inferto diverse coltellate alla gola, all'addome e infine allo sterno per prelevarle il cuore restando a vegliarla fino al momento del suo ultimo respiro.